sono qui sono qui eccoli qua prepariamo tutta la staff mamma mia ragazzi sono per voi sono per voi ecco qua direttamente da Roma hanno fatto esattamente la bellezza di oltre 400 chilometri e sono arrivati qui solo per noi solo per il TH di Resort e di Maria di Ostuni per tutti i clienti dei DJ Tony e della Flair viaggi è uguale la Brunetta è uguale quale vi piace di più eh quale vi piace di più la Brunetta il capellone non ha solo allora Gabri ci sei posso avere questo e sarà perché ti amo più un'emozione che cresce piano piano stringimi forte e starmi più vicino senti sto bene sarà perché ti amo sì applausi grazie a tutti i e sarà perché ti amo più e sarà perché ti amo più e sarà perché ti amo più se cade il mondo allora ci spostiamo se cade il mondo sarà perché ti amo più e 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 sarà perché ti amo più grande ragazzi grandissimi e sarà perché ti amo più 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 B principale fordagine Grazie a tutti. Ragazzi, Franco dei ricchi e poveri, Angelo dei ricchi e poveri, Angela dei ricchi e poveri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.